Paolo Fonseca, lo so, l'argomento non entusiasma, ma la dobbiamo guardare in faccia alla realtà, ragazzi. Molti tifosi del Milan si sono già espressi in maniera chiara e netta, ma al momento il nome Caldo è il suo, secondo il 99% dei giornalisti il nuovo allenatore del Milan sarà lui, e quindi bisogna parlarne. Bisogna parlarne anche per provare a capire le motivazioni che hanno portato a questa scelta, anzi, diamo il beneficio del dubbio, che potrebbero portare a questa scelta. Facciamo finta che non sia già tutto fatto e deciso. E partirei con un parere iniziale, proprio per portare bene a Fonseca, no? Io non l'avrei mai preso. E col senno di poi, meno male, perché l'ultima volta che mi sono espresso in maniera negativa su un allenatore, quell'allenatore ha fatto uscire il Milan dalla banterira e ha vinto il diciannovesimo scudetto, quindi se tanto mi dà tanto, Fonseca farà bene. Io però non l'avrei mai preso. Perché? Perché in un'estate in cui ci sono liberi Conte, in cui potevi provare a prendere Tiago Motta, De Zerbi, eccetera, eccetera, ragazzi, non prendiamoci in giro, non sarei mai andato su Fonseca. E come me, penso il 90% dei tifosi del Milan, cioè anche quelli che stanno accettando di buon grado Fonseca, anche quelli che provano a giustificare la scelta di Fonseca, ragazzi, loro hanno accettato questa situazione e adesso provano a giustificare un po' la scelta della società. Ma se a marzo qualcuno avesse chiesto ai tifosi del Milan ti andrebbe bene Fonseca come allenatore per l'anno prossimo? Io credo che il 95% dei tifosi del Milan avrebbe risposto no. E chi dice il contrario, secondo me, mente a se stesso o mente sapendo di mentire. Però, al di là del parere iniziale, bisogna anche mettere in chiaro una cosa. Non sempre il nome migliore sulla carta è quello giusto. Noi, a bocce ferme, ovviamente, io sto qui a dire sarebbe stato meglio Conte, sarebbe stato meglio Motta, sarebbe stato meglio De Zerbi, però poi è il campo che deve parlare. Chi lo sa? Magari sul campo Fonseca potrebbe fare meglio di tutti questi, anche perché l'anno prossimo li affronterà in campionato, perlomeno Conte e Motta. De Zerbi non credo. Quindi, chi lo sa? Magari avranno ragione loro e Fonseca sul campo si rivelerà la migliore scelta possibile per il Milan. Però è chiaro che dovendo giudicare le cose a bocce ferme, c'è da essere entusiasti. Stiamo parlando di un allenatore che nella sua carriera, nei casi migliori, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma parliamo di un allenatore che non ha mai avuto un exploit, cioè non ha mai avuto il cammino che ha fatto quest'anno per dire Tiago Motta che ha preso una squadra sulla carta non da Champions e l'ha portata in Champions, non ha avuto l' exploit come Conte che ha preso la Juve sfavorita e l'ha portata a vincere. Anche l' exploit, guardate che cosa arriva a dirvi, mi sto sentendo male, anche l' exploit dello stesso Pioli che ha vinto lo scudetto con una squadra non da scudetto. Obiettivamente Fonseca non ha mai avuto una cosa di questo tipo. È sempre stato un allenatore lineare, ripeto, che nel migliore dei casi ha portato a casa gli obiettivi minimi, qualche volta è anche andato abbondantemente sotto e quindi parte indietro, cioè sulla carta parte indietro, è inutile che ci prendiamo in giro, però loro l'hanno scelto. E perché? Terrebbe da chiedere perché con Conte libero, con Motta libero hanno preso Fonseca. Io credo che alla base ci siano diversi fattori, in primis, questo lo dico, che è chiaramente il fattore economico, perché Fonseca non andrà a prendere uno stipendio esorbitante, quindi con il Milan si sa, Milan punta allo scudetto del bilancio, quindi se a mai sforare un minimo. Fonseca prende poco, diciamo relativamente poco di stipendio, quindi va bene Fonseca, a posto, mettiamo lui in panchia e va bene. Poi c'è un fattore di carattere. Evidentemente loro ritengono Fonseca adatto dal punto di vista caratteriale a lavorare in team qualunque cosa significhi tutto questo, visto che nessuno ha ancora capito bene come cazzo vengano prese le decisioni all'interno del Milan. Hanno provato a spiegarcelo con cose tipo, eh no, il Milan lavora in maniera collegiale. Va bene, d'accordo, quindi a quanto pare Fonseca andrebbe bene per sto lavoro collegiale che devono fare. E poi, soprattutto, l'arrivo di Fonseca in panchina non, non diciamo, stravolgerebbe l'assetto della squadra. Cioè, con Fonseca in panchina il Milan non sarebbe costretto a cambiare così tanto, non sarebbe costretto a stravolgere. Cioè, per il tipo di gioco che fa Fonseca, il Milan va, paradossalmente, va bene, già così per com'è. Ed è chiaro che questa dirigenza sarebbe andata in questa direzione, perché loro l'anno scorso hanno fatto un mercato dispendioso, hanno comprato tanti giocatori. Dei giocatori che rappresentano un po', come dire, le credenziali di Furlani, di Moncada, eccetera. Cioè, loro puntano sui giocatori che hanno acquistato, come è normale che sia. Cioè, i giocatori presi l'anno scorso sono proprio la base del progetto di Furlani e Moncada. Quindi, per forza di cose, la scelta dell'allenatore viene fatta proprio per valorizzare quei giocatori acquistati. Chiaro che, qualora, diciamo, avessero parlato con Conte e Conte avesse detto, ma guarda, io verrei volentieri al Milan, però per il mio 3-5-2 Ciocueze non va bene, gli esterni non vanno bene, eccetera, eccetera. Conte, perfetto, scartato. Scartato a prescindere. Perché il prossimo allenatore dovrà valorizzare Ciocueze, Pulisic, Musa, Loftus, Cic. Cioè, tutti questi giocatori presi l'anno scorso. Valorizzarli proprio al 100%. Quindi, questo è. Siccome loro si sono messi in testa di puntellare la squadra con pochi acquisti, cioè, loro a livello di struttura pensano che la squadra vada bene così. I giocatori li hanno presi, sono quelli. Quindi, prendiamo un allenatore a cui vada bene questa squadra. Un allenatore con un gioco adatto a questi calciatori e a questa squadra. E Fonseca, evidentemente, secondo i loro dati, secondo tutte le loro cose, le loro cose risponde a questo identikit. Questo è fondamentalmente. Poi, è chiaro, Fonseca sicuramente non andrà a rompere troppo le scatole per il mercato e tutto quanto. E quindi, quella è la scelta. Poi, se andiamo a guardare il vendimento, ovviamente, il vendimento di Fonseca, molti ovviamente pensano all'esperienza romana di Fonseca. e quindi, automaticamente, dicono, a Roma non è che abbia fatto proprio bene, bene, bene. E non ha fatto bene. Tra l'altro, ha anche avuto tantissimi infortuni nel suo periodo romano. Ricordo anche una semifinale di Europa League in cui si ruppero tipo tre giocatori nell'arco di 20 minuti, cioè, una follia totale. Però, però, qualcuno mi lincerà dopo questo. Però, secondo me, Fonseca, nel complesso, non ha fatto proprio malissimissimo a Roma. Cioè, nella stagione del Covid è arrivato quinto, con una squadra da quinto posto, facendo 70 punti. Va ricordato che nei quattro anni successivi, tra Mourinho e De Rossi, nessun allenatore della Roma è riuscito a superare i 70 punti. Dopo, tra l'altro, centinaia di milioni di euro di mercato. Ma, vabbè. L'anno dopo, il campionato è stato brutto, però ha comunque raggiunto una semifinale di Europa League. Ovviamente, ci sono anche i punti oscuri. Giustamente, la gente dice, ma questa ha perso una partita facendo sei cambi. Eh, sì. Vero. Effettivamente, è vero. Però, su questo ci voglio ritornare dopo, perché quello sarà strettamente collegato ad un altro aspetto. E quindi, insomma, dopo il suo secondo anno, in cui è stato pieno di infortuni, problemi, in cui era giunto la semifinale di Europa League, è stato esonerato alla Roma, è arrivato Mourinho, lui si è preso un anno sabbatico, e buonanotte a tutti. Poi è tornato in Ligan a Lille. E a Lille ha fatto bene. Cioè, lui ha preso il Lille che veniva dal decimo posto, perché Lille, che aveva vinto la Ligan nel 2020-2021, e Lille di Mignon, insomma, e tutta sta gente era stato sostanzialmente smantellato, quelle state lì gli avevano venduto anche i top rimasti, tipo Botman al Newcastle, Onana all'Everton, Renato Sanchez al Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. E lui, nonostante tutte queste cessioni e l'acquisto di giocatori minori, comunque, di giovani, lui comunque ha fatto bene. Cioè, lui è riuscito a migliorare il decimo posto dell'anno precedente, arrivando quinto, arrivando in Conference League e mettendo abbondantemente a posto la squadra. Quindi, questo bisogna sottolinearlo. Quest'anno è riuscito a fare paradossalmente anche meglio, perché anche quest'anno Lille non ha avuto chissà quali rinforzi. Hanno venduto Carlos Balé, Balbrayton, Timothy Weahle, Juve, sostituiti, come al solito, con gente mezza sconosciuta. Quest'anno, tra l'altro, aveva anche il doppio impegno della Conference League, eppure è riuscito a fare anche meglio, è riuscito a qualificarsi per la Champions ed, oltretutto, cosa da non trascurare, è riuscito a migliorare notevolmente, uno, il numero degli infortuni, perché lui a Lille non ha minimamente avuto tutti gli infortuni che ha avuto a Roma. Quindi, cioè, si presume che sia riuscito a lavorare bene su quella cosa lì e che sia riuscito a migliorarsi. Ed, oltretutto, ha anche migliorato notevolmente i numeri difensivi della sua squadra. Quest'anno ha segnato molto meno rispetto all'anno scorso, perché Lille, nella stagione 22-23, considerando tutte le competizioni, aveva segnato 71 gol, però giocando due competizioni e non tre, perché hanno giocato solamente il campionato e la Coppa di Francia, quest'anno con tre competizioni ne hanno fatti 86. Considerando solo la Liga nella Coppa di Francia, ne hanno fatti 66, quindi 5 e meno rispetto all'anno prima. Però hanno subito anche molti meno golle. Molti meno golle. Lille ha concesso molto meno rispetto agli anni passati. E, tra l'altro, quest'anno c'è stata anche, all'interno del Lille, la, possiamo definirla, crisi di Jonathan David, che è la punta di diamante del Lille, e che per sei mesi, quest'anno, è stato sostanzialmente in vacanza. Cioè, ha segnato pochissimo nella prima parte di stagione Jonathan David. Quindi, bene, cioè, a Lille ha fatto bene, a Lille ha fatto bene e ha parzialmente, vedete, affrontato in maniera positiva dei problemi che il Milan di quest'anno ha. Perché il Milan di quest'anno che problemi ha avuto? Uno, gli infortuni. E lui, comunque, a Lille, ci ha lavorato sicuramente meglio rispetto alla sua esperienza romana. Un altro problema enorme del Milan di questa stagione è stata la fase difensiva. E lui, comunque, quest'anno a Lille ha risolto questi problemi. Cioè, ha subito pochi gol. Quindi, è un allenatore che ha dimostrato di sapere anche lavorare sulla fase difensiva. Quindi, volendo un po' tirare le somme, è quello. la scelta è logica per certi versi. Ecco, cioè, non è una scelta proprio campata per aria. Le motivazioni per arrivare a Fonseca esistono. Io, continuo a ripetere, nonostante queste motivazioni che riesco a comprendere, avrei comunque fatto un'altra scelta. Che, ripeto, nonostante tutto questo, io continuo a ritenere che Conte sia un allenatore più valido, che Tiago Motta sia un allenatore più valido, che De Zerbi sia un allenatore più valido. Però, cioè, Fonseca il suo lo ha dimostrato. Cioè, io, infatti, voglio essere molto chiaro. Cioè, io, pur non condividendo la scelta, non considero Fonseca un cesso assoluto, come molti già hanno pensato. Secondo me non è un cesso assoluto. Cioè, è un buon allenatore. però è un allenatore che avrei visto bene con il massimo del rispetto, non so, alla Fiorentina, alla Lazio. Squadre che l'anno prossimo dovranno ripartire da un'Europa minore e non l'avrei mai preso al Milan. Molto semplicemente questo è il fatto. Voi, ovviamente, ripeto, parlerà il campo, magari il campo dirà tutt'altro, farà benissimo, grandi cose, eccetera, però è chiaro che sulla carta qualche dubbio c'è. E adesso torniamo al discorso che ho fatto prima, no? Ai famosi sei cambi fatti durante Roma-Spezia di Coppa Italia. Ora, quei sei cambi lì, che cosa sottintendono? Quei sei cambi fanno capire che Fonseca, quando è troppo sotto pressione, rischia di andare un po' in confusione, perché non è un allenatore caratterialmente d'acciaio per usare un eufemismo. Poi lui a Roma era stato molto preso di mira dalla stampa, dalle radio, e questo lo ha palesemente sofferto e proprio a causa di questo io voglio parlare in maniera chiara ai dirigenti e dei dirigenti. Questa scelta qua è una scelta coraggiosa che dovrete difendere. Fonseca una volta che viene messo sotto contratto dal Milan poi deve essere difeso dal Milan. Non esiste prendere Fonseca e poi abbandonarla a se stesso come hanno fatto l'anno scorso Coppioli. Perché altrimenti questa è una scommessa persa prima ancora di iniziare il campionato. Quindi hanno preso sta scelta impopolare? devono spiegarla cioè devono andare in conferenza stampa a spiegare perché per come per quando sono arrivati alla scelta di Fonseca e lo dovranno sostenere e proteggere dopo prima di ogni partita perché l'anno prossimo Fonseca avrà attorno a sé un clima pesante prima ancora di iniziare perché ci avrà i tifosi scettivi nel migliore dei casi scettici i giornalisti che ovviamente andranno a battere là il chiodo le vedove di Pioli che ovviamente torneranno alla carica dopo ogni passo falso perché io già immagino dopo ogni pareggio del Milano dopo ogni sconfitta del Milano avete visto Pioli era meglio Pioli avete fatto Pioli 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 e sarà così per tutto l'anno quindi oltretutto dopo una stagione come quella di quest'anno che è stata molto complicata e che ha visto insomma il Milano proprio l'ambiente Milano uscirne con le ossa rotte quindi sia chiaro loro vogliono e se vogliono fare questa scelta coraggiosa vogliono fare questa scelta impopolare bene ma poi la dovranno difendere ed è questa la cosa di cui ho paura che è successo mi è risalito qualcosa cioè Fonseca avrà tutto il mio appoggio io non condivido la scelta lo ripeto ma nel momento in cui Paolo Fonseca firmerà il contratto con il Milan avrà tutto il mio pieno completo e totale appoggio e io mi auguro che i tifosi del Milan capiscano l'antifona e ragionino anche in questo modo perché ragazzi ve lo ripeto questo povero Cristo prima ancora di iniziare avrà l'inferno attorno a sé per i bel Milan secondo me noi tifosi pur non essendo d'accordo con la scelta dovremmo sostenerlo fin da subito però è molto più importante ovviamente che lo faccia la società perché se Fonseca è abbandonato al suo destino farà la fine di Garzia quest'anno a Napoli io ve lo dico con l'appoggio di tutti e con un mercato soprattutto all'altezza Fonseca potrà dire la sua caso contrario ragazzi siamo destinati a schiantarci malamente detto ciò buona continuazione vi invito ovviamente a commentare per dirvi la vostra e sempre Forza Milan grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti